eccoci qui a colazione questa mattina mangio una prugna e un po di fragole queste sono forse le ultime fragole della stagione chi lo sa qui c'è il kia pudding che io faccio con lo yogurt in questo caso ho messo lo yogurt vedete i miei di kia ho messo anche un po di avena qui c'è il tè e sto prendendo questo tè verde con il limone di clipper è buono si sente molto l'aroma di limone mi piace e poi ho anche un dolcino che ho fatto io ovvero un cupcake con crema alla banana e dentro c'è la nutella e come base ho messo un biscotto oreo super dolce pranzo siccome è domenica sono al pub a mangiare un sunday roast che è l'arrosto della domenica tipico inglese con le patate con lo yorkshire pudding e bevo anche uno spritz che non è inglese ma ci sta tornata a casa faccio uno spuntino con questa barretta allo yogurt ed è con il kefir dentro particolare perché è uno yogurt che sta tipo di cheesecake e intorno c'è la copertura al cioccolato e dentro c'è un sapore così mirtilloso per così dire nel pomeriggio sono sul campo da golf da giocare un pochino ci sono anche tutti questi pennuti e finisce la serata al ristorante per mangiare un po di sushi e quindi qua c'è un sushi misto per due e con questo sushi da stick and sushi finisce il video spero che il video vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo